Questo è il video che nessuno vorrebbe ascoltare e forse non ascolterete ma io forse in voi lo farei è una cosa che a me mi ha traumatizzato parecchio quando mi hanno detta e dopo mi sono andata a informare ovviamente non che non mi fidassi ma ovviamente mi sono informata ma è così, voi lo sapevate che i nostri cani non ci amano? Nel senso che il cane non prova il sentimento dell'amore? Il cane semplicemente è un animale da branco e quindi ha bisogno di una guida ma loro non ci amano come intendiamo noi perché noi siamo umani e loro sono cani e lo so io ci sono rimasta parecchio umane quando mi hanno detto e ormai me la sono messa via il cane c'ha semplicemente bisogno di una guida e non esistono baci, non esistono bracci ricordatevi che non sono persone, sono cani a me mi dispiace tantissimo perché vorrei che il mio cane mi amasse ma non è in grado di provare quel sentimento quindi raga vado a piangere non dite il mio mi ama perché raga mi dispiace ma non mi ama e anche lei mi ama purtroppo ciao